È stato un weekend importante per la Lega, è partita la campagna referendaria che comunque continua nei comuni e sul suo territorio come è andata? Devo dire che ci siamo stupiti noi stessi per il numero di firme, per l'affluenza, abbiamo finito i moduli in quasi tutte le postazioni, abbiamo tre mesi di tempo, ci diamo dentro. L'abolizione della legge Fornero, di quella porcata incredibile che ha massacrato i nostri pensionati che si sono spaccati la schiena, l'abolizione della legge Merlin per togliere la prostituzione dalle strade, temi sentiti, condivisi e oltre veramente ogni nostra piurosia previsione e si continua nei prossimi mesi. I moduli comunque sono anche in tutti i comuni.